Allora, quando abbiamo visto che compriamo 40 anni, io e lui compriamo 40 anni, abbiamo detto, cosa facciamo, Tommasino? Abbiamo avuto tutti e due una bellissima idea, abbiamo pensato di fare una cosa particolare, ma molto molto semplice, carina, grazie a lui per i certi reperti da dinosauro in casa, non ce l'ho, perché sono molto più giovane, quindi sono affidata a lui, ho fatto una cosa per tutto il gruppo. Volendo, sotto l'autopagamento, ognuno può averla, poi, è logico, no? La dai tu al presidente, dai, faccio valzare il tuo vecino. Non presidente, sta, 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 sta. Io da nonno in fuori, da nonno in fuori, mi faccio questo regalo che l'ha fatto l'Erena. Prende la tua. Allora, a Tommasino, auguri a tutti per un sereno domani, ricordando ieri, da tutti noi del Cessimo di Pozzolo, 8.12.2019. Il concetto è da tutti per tutti. Il Dio è un po' anche la mia, ma lei è il panello. Il Dio è molto rosa. Lo fai comodo? Eh, sì, sì. Oh, fantastico. Eh, ragazzi, fatelo girare. Bellissimo. Abbiamo anche il pennarello indelebile per farci prima di andare via del film e dietro. Il film e dietro, bellissimo. C'è anche Pino giovane. Non è mai stato giovane. C'erano ancora i dinosauri. Anche te. C'è anche Andrea giovane. Andrea era un bambino.